Del Vecchio, nelle ultime ore si parla di una possibile sostituzione del comandante della Polizia Municipale di Pescara, il colonnello Maggitti, riferimento alla vicenda della multa del questore dopo il servizio delle Iene. Questa notizia corrisponde al vero? C'è l'intenzione dell'amministrazione di mandare via, tra virgolette, il comandante oppure no? Ma qualsiasi iniziativa, come ha detto il sindaco Marco Alessandrini e come confermo, viene assunta solo dopo un esame della situazione. Si sta facendo una valutazione, si avvierà una valutazione per capire che cosa è accaduto due anni fa, tre anni fa, perché credo che questa cosa sia accaduta nel 2011 e ci troviamo nel 2014. Dobbiamo capire, comprendere che cosa è accaduto in quel frangente, in che cosa è responsabile, se è responsabile l'attuale comandante della Polizia Municipale, solo all'esito di questa verifica il sindaco assumerà le decisioni più opportune per quella che è la funzionalità di un corpo come quello della Polizia Municipale, per i servizi che assicura la cittadinanza. Quindi al momento non c'è in campo nessuna sostituzione, avvicendamento o quant'altro, ma soltanto l'impegno da parte del sindaco, anche per rispondere a una precisa interrogazione in Consiglio Comunale, di verificare, rendersi conto, rendersi, come dire, essere edotto di ciò che è accaduto in quel frangente del 2011 per effetto di una multa che sempre non sia stata pagata. Avete già parlato col comandante? Per quanto mi riguarda io no, ma la delega ce l'ha l'assessore Sulpizio che sicuramente parla quotidianamente con il comandante e credo che in questo frangente, in questo periodo, anche il sindaco avrà avuto interlocuzioni con il comandante e quindi anche da queste interlocazioni tirerà le somme per una decisione che dovrà assumere. Grazie.